Cost to cost 2020. Anche quest'anno abbiamo riattraversato l'Italia da una parte all'altra. Come tutti gli anni è sempre un percorso diverso. Questa volta siamo partiti da Sperlonga e siamo arrivati vicino a Pescara, appena sotto Pescara. Un giro eccezionale. Quattro giorni splendidi all'interno per gran parte del Parco Nazionale d'Abru. È stata una vera avventura come lo sarà anche la prossima. Ogni anno infatti i percorsi sono diversi. Vi aspettiamo per la vostra avventura. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.